E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef e questo ci chiama Roblo E siamo tornati nel nostro 3 mappi in 1 Questa volta inizieremo da Hunt Simulator Che io ancora non ho capito bene perché Ok Dovremmo trasformarci e simulare la vita delle formiche Ebbene sì, delle formiche Perché la vita delle formiche è molto interessante Molto emotivante, molto emozionante Molto coinvolgente, bella E siamo operati, ok? Non so perché ho perso i capelli, forse dall'emozione Allora, puoi scegliere tra red, brown e black E questo invece no No, 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 vieni a vedere, vieni a vedere Perché per quello di fare tot punti La cosa divertente è che il red è rosso davvero Brown è bianco e black è blu Sono però, oh mio Dio Che succede? Allora Dimmi, dimmi Io sto cadendo in cuniculi Cuniculi Sì Non so come si dice Di formicai e non riesco più a uscirne Continuo a cadere Io All'infinito Qua c'è la caverna Però con Dig dovrei poter scavare, giusto? C'è un tipo che ha preso un banana gigante C'è una banana gigante e la formica che lo porta in giro L'obiettivo praticamente è andare a cercare della frutta Ok Prendere la frutta e portarla nella nostra base Buongiorno Buongiorno Ah sì, dove ero io? Però aspetta, un attimino ho resettato Perché ho avuto un po' di problemini Ok Ok Mi sono incastrata Però adesso arrivo Va bene, va bene, va bene Eccomi La gente sta portando in giro la peggio frutta E io non so dove trovarla Oh, qua c'è una mela Prendila Steph, prendila mela Ok, esco fuori Eccomi fuori Dove sei, formichina blu? Dove sei? Sono una mela verde Ok Ah, eccola, eccola, eccola Sei quello Eccomi Ciao Sono questa Ciao, bellissima Allora Terribile sta mappa No, è bellissima Prendi un po' di questa roba bianca Ma sono uova Non sono uova di formica Ah, ok Ti dicevo Sto cercando di capire dove dobbiamo Ah, guarda, qua, 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 qua Tu praticamente arrivi qui la tana Ok Ok E automaticamente lì dai la frutta E quindi se io adesso trovo il mio nome Eccolo Steph, adesso ha uno Mentre tu sei a zero Perché appunto Sì, io non ho molto interesse a far andare avanti la mia colonia di formiche Perché? Perché è terribile Ma no Ma siamo una colonia di formiche Dobbiamo prendere la fruttina e portarla in giro Sei alle mele rosse? Non riesco ad arrivarci perché c'è un dirupo tra me e mele rosse Quindi non riesco a capire come poterlo superare Io sto facendo una fossa Davvero Per rimanere lì per sempre Può essere, può essere, può essere Potrebbe essere il mio nuovo piano Voglio capire se magari di sotto trovi frutta più rara Cambiamo mappa Via, 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 via Forza, forza Ah, però è stato emozionante fare la vita della formica Te lo dico, sì Sai, sono quelle esperienze che magari una volta nella vita vuoi provare E meno male che Roblox te lo permette Certo Certo, certo Ehi Ferrenichi Sono diventato un giocatore di football americano Spiegami perché Dopo che sei Eccomi Dopo che sei una formica abbiamo deciso di diventare giocatore di football Non lo so soprattutto perché non sono le regole Sono grossissima poi Sono grossissima Io non so come funziona Scusate Chi ha la palla? Ma è rugby questo, scusami No, è football americano Ma sei sicuro? Sì Allora, chi la chiappa? No, perché sono qua? Non voglio stare Vado io, vado io, vado io Sono bravissima La chiappala, la chiappala, la chiappala Non l'ho rubata Cerco di placare i giocatori Vai Mi stendo tutti Cioè non capisco Mi stendo Oh grande Passa, passa amico Amico Amico, passa Amico Cioè ma non li puoi stendere Solo buggandoli li puoi stendere, giusto? Non lo so Però ha fatto, di fatto ha fatto subito touchdown Wow Cioè 75 yard di touchdown Li fai Quando sei Quando dormi O quando sei alla Playstation Non lo so Ma cos'è replay? Non ho capito Credo di sì Che va tutto a scatti Incredibile Ah, ok Sono partito Cerco di dribblare tutti Vai, ti aiuto Buttandoli tutti giù Ti li butto giù Lancio Non è vero No, non è vero Te li sto buttando giù Non è vero Però ci provo Aia Ti hanno steso malissimo Dov'è la palla? Dov'è, dov'è, dov'è? Non lo so Ce l'ho io di nuovo, ok Capisco nulla Vado, via Andiamo Bravissimi, bravissimi Stendimi la gente Stendimi la gente Eh, più veloci di me Praticamente io ti dico una direzione Tu mi segui Eh, vabbè, però me la devi dire Io non ti riconosco tra tutti questi Siamo tutti uguali Ok Ok, vado a destra Buttami chi mi segue Ok, vado Vai Pronti Stendilo Non l'hai steso, vero? No, è difficilissimo Usciamo Mi stai scocciando con ste mappe Non so perché siamo restati così a lungo in questa mappa Basta, basta, basta Il tuo giorno è giunto, Ferinichi Grazie Abbiamo trovato una mappa dove siamo dei cavalieri Grazie E c'è un impero da conquistare Sei pronta? Sì, prontissima Sembra figa sta mappa, eh Eh sì Cioè, guarda tipo come colpisce What's up, what's up È bella l'animazione Ammattiamo il nostro alleato Non lo voglio Dobbiamo essere solo io e te Allora Oh che bellina E qua Bastiamo e avanziamo Tipo se noi mettiamo l'ascia Secondo me possiamo tagliare la legna Ma perché dovrei tagliare la legna e non combattere? Non comprendo Perché magari ci servono dei materiali Capito? Ma tu la stai tagliando? No, tu? No, neanch'io Come? Quindi c'è qualcosa che non va Ah no, sì Dipende da come ti metti Adesso sto vedendo tipo i Aspetta, io magari avevo asciutto Ecco Ce l'ho fatta Il nemico sta attaccando il nostro alleato Vado Vado Picchialo Picchiamolo tutti Uccidilo Sta cercando di scappare Picchia, 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 picchia Vado, vado, vado All'arco lui No, muori lo stesso Con tropperini chiunque muore E infatti Continua Non è ancora morto Scappa c'è Ok Ecco qua Finalmente Mi ha dato un gold Anche a me Per l'uccisione E ho fatto uno di exp del livello 25 Oh c'è la sua tomba Ok Distruggiamo la sua tomba Perché qua non vogliamo neanche le vostre tombe Non vi lasciamo neanche riposare in pace Credo che sia una mappa centralizzata Dove ci sono i quattro regni Perché noi potevamo scegliere tra quattro regni E poi combattere Capito Tra i vari regni Sì, andiamo a uccidere questo Non mi interessa Vieni Dove sei? No, non ti vedo Aspetta Io sto andando a combattere Arrivo È perché siamo proprio davanti a casa loro E infatti li uccidiamo Vieni Va bene Ma scappano se vanno lì dentro No, non possono Non possono Picchia Non possono tornare indietro Aia Aia, che male Aia Ce la facciamo Questo è basso Questo è basso Sta cercando di scappare Il nostro è morto E ne è arrivato un altro Ok Io ne ho ammazzato uno di loro King Vot Sto votando a te per diventare il re Oh, che bello Io l'ho schippato Perché, capito Picchiando mi si è tolta la schermata Non so come Aia No, stanno arrivando tantissime Ok, ho bevuto una pozione Che mi ricura Muoio No Sono morta Sono morta È iniziato, capito Ad essere tipo 5 contro 1 Redcliffe Kingdom New King Is Steph 23,17 Wow Cosa? Perché sei il re o no? Cosa? E ora cosa posso fare da re? Qui ci sono delle casettine Non è che si compra qualcosa Esatto Esatto Stavo pensando Infatti Però si comprano con i gold Quindi non c'entrano molto Eh, vabbè La prima parte da 25 Poi fa 50 75 100 Non è che c'è qualcuno Qui possiamo vendere la legna E la pietra che prendiamo E a quel punto ti compri le armi Eh, infatti Controlliamo però È pieno di negozi Fletcher dovrebbe essere Ranged Weapons Infatti 100 gold E ci compriamo l'arco E poi invece Questo altro negozio qua È il trader Quindi se tu vai da lui Puoi vendere Uno di legna Per 5 gold Uh, e quanta legna ho? Dove sei poi? Qual è il negozio? Sono il trader L'ultimo Quello tutto a destra Eccoti, eccoti Ti vedo Sono qui dietro Sono qui dietro Quindi io avevo uno di legna L'ho venduto E sono adesso 11 gold Ottimo Poi qua in alto Vedo kingdom Infatti sono io il re Posso cambiare il nome? Ah no Costa 30 robux Peccato Team players Siamo in 6 E posso dire Let's go Let's go Ti è comparso? Sì mi è comparso King announcement We have to kill The blue team Ah non posso per un altro minuto Ah vabbè Adesso queste ne ho ricevuto Let's go Ma non si sa dove Andranno ma non si sa dove Non si sa in che momento Dove non fare le scatere Stai tagliando l'albero? Eh sì Ma mi faccio un sacco di soldi Va bene vai Facciamoci soldi E compriamoci un'arma più figa Però c'è un albero Mi dà uno di legna C'è un invaso C'è un invaso un blu Dove? Vieni a darmi la mano Arrivo Anzi sono tanti blu Eh questo è perché Li abbiamo scocciati Uno ha i pantaloni infuocati E un'ascia potentissima Ma io voglio anche io Arrivo 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 ci sono Vieni qua guest Chi è che sta facendo male Al mio regno? Chi è che vuole invaso? Morirete tutti guarda Morirete tutti Salva il tuo re Salva il tuo re Ferreniki Eh ma sono tanti accidenti Eh ma siamo tantissimi anche noi Arrivo 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 Qualcuno è stato buttato giù dal ponte Vedo gente che cade dal ponte I nostri però cadono dal ponte Ho bevuto una pozione di vita Per recuperare un po' Li uccido tutti Li uccido tutti Continuo a picchiare Continuo a picchiare Ok io non l'ho fatto fuori Difendete il vostro re Ci sono ci sono ci sono Yes Li stiamo distruggendo Cioè distruggendoli tantissimo Ha scritto Au Perché l'abbiamo ferito gravemente Eh certo Ma non è che col piccone Distruggiamo No Volevo provare a distruggere le tombe Ma neanche Mi dà un po' di pietra No 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 Allora io dovrei avere Quattro pezzi di legno Che vado subito a vendere Non hai capito che mi sono messa A picconare le tombe E una che in cui a me Si è messa a fare lo stesso Terribile sta scena Ok Ci ha provato anche lui Ha detto nel dubbio Ci provo anche io Ci si prova Vediamo se ci dà un po' di pietra Buongiorno trader Le vendo Quattro di legna E quindi mi faccio Venti gold E quindi sono arrivato A trentasette Ok 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 Vorrei arrivare a cento Per comprarmi l'arco Eh sì Però è difficile Sì sì Ho notato che Anche perché ammazzare i player Paga pochissimo Ah vedi ci sono le chest Che puoi comprare Che ti danno Materiali rari Quanto costano? Tipo con dieci robux Ti compri 625 gold Ci ricompriamo E ci prendiamo un archino Dai sì Vero? Sì sì Dai voglio un arco Vai Sì 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 Bye now Non shoppiamo mai Durante i video Eh dai Almeno una volta Poi dieci robux Manco stessimo spendendo Esatto Cioè dieci robux Quanto sono due centesimi Tipo Più o meno Poco più Non è che sia molto Allora A questo punto compro Il arco più potente Quello da 200 gold Allora vediamo cosa c'è Vediamo Perché io non sono sicura Di volere l'arco Capito? Come mai? Eh mi piace Però volevo anche qualche spada Fighissima Ok allora facciamo Che combatto da lontano Eh esatto Secondo me è meglio Abbinarci piuttosto Che fare la stessa cosa Ok Così diventiamo più forti Invincibili E imbattibili Ma benissimo Allora Vedi che spada c'è? Uh ci sono C'è anche l'arbori E poi c'è l'armatura Esatto Vediamo un attimino L'armatura No queste sono le spade Ah ok Comprati quella da 175 No vabbè La vedi che cosa potente C'è una risa qui fuori Vai Ti ammazzo Eh faccio un sacco di danno Guarda come scappano Prendilo con l'arco Prendilo Prendilo Ci sto provando Come non ci riesci Aia Attenta Attenta Dietro 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 Sì 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 Questo però lo ammazzo Lo ammazzo Lo ammazzo Morto Morto Bravissima Ok continua 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 Mi bevo una pozione Ok perfetto Così recupero vita Vai 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 C'è un altro arciere C'è un altro arciere Mi sa che dobbiamo uccidere lui Gli arcieri sono i primi Anzi questo è qua Scusami Esatto Ti ammazzo Vai 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 È stranissimo il combattimento con l'arco Tipo tieni premuto E cerchi di stargli addosso Una roba del genere No no è strano sì È strano sì È morto No È bassissimo Non ha vita E muori Accidenti a te Dammi una mano Dammi una mano Arrivo Arrivo Bevo una pozione Vai 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 Cerco di scappare Lo uccido Mi ha rallentato Lo uccido Dai Cioè ma non muoiono Oh accidenti No mi sono fatta Bellissima Bellissima Sono emozionatissima Perché è stata troppo emozionata Vero We did it Sì ce l'abbiamo fatta Esattamente amico mio Bravi 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 Ok Siamo stati bravi È trasteccavata con l'arco comunque È strano Vorrei capirlo meglio Alla spada vai Ti butto in mezzo Dei due cefoni Che è davvero Ah Si basa sull'energia che ho E posso sparare a raffica Ah ok Ok Dopo che torno a spada Ok Ottimo Sei stata una valorosa guerriera Grazie Ma ci dobbiamo ritirare Sono stanco Sono vecchio Ho bisogno di dormire No sì però Per oggi mi sa che abbiamo fatto abbastanza Abbiamo sconfitto i verdi Blu Siamo stati bravissimi Quindi mi sembra giusto Meritato riposo Sondaggino Per chiedervi se mi piace questa mappa E la vorreste rivedere Perché è interessante Abbiamo anche livello Siamo ancora a livello 1 E ovviamente Più saliamo di livello Più sblocchiamo delle cose potenti Questo qua è tardo E interessanti Si ha deciso che ti voleva provare a picchiare Solo Allora Non si sa bene perché Aspetta Aspetta Gli faccio vedere una cosa Sì Vuoi vedere la mia spada Lasciala in pace Ecco Non provare mai più Lasciala in pace Perché ti taglio in due armatura compresa Ok Adesso a posto Gliel'ho chiarito Comunque Speriamo che vi sia piaciuto questo video Fateci sapere se questa mappa Vi è piaciuta in particolare Perché Mi è piaciuta molto Le altre erano bruttine Ma questa invece era davvero interessante Quindi fateci sapere nei commenti E ci fermiamo così Beh ragazzi Se è già già lasciateci un like E se è la prima volta che avete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao